Sarà il socialdemocratico Mustafa Akinci, il quarto presidente di Cipro Nord, Repubblica proclamata nel 1982 e riconosciuta solo dalla Turchia. Il 67enne sfidante del presidente uscente Derviş Erolü ha ottenuto oltre il 60% dei voti, battendo nettamente l'avversario che era uscito con un leggero vantaggio dal primo turno di una settimana fa. Un risultato che riflette, secondo gli osservatori, un desiderio di affrancarsi dall'influenza di Ankara nella conduzione dei negoziati con il governo cipriota, essendo Akinci considerato favorevole a una riunificazione dell'isola.